amici del lato viola bentornati qui in questo nuovo appuntamento con underrated match il contenitore la rubrica dove vi consiglio e vi parlo brevemente di dei match che a me personalmente sono piaciuti ma che secondo me sono da recuperare in primis e ovviamente sottovalutati perché comunque secondo me quello di cui parleremo oggi è molto sottovalutato andiamo subito a scoprirlo qual è questo match lo vedete già dal titolo ma ve lo mostro anche sotto forma di banner e j styles contro daniel bryan dello smackdown del 12 06 2020 valido per il titolo intercontinentale un po di lore di questo match molto molto breve molto molto sintetica perché non c'era dietro una storia importante più che altro perché si trattava di un torneo per il titolo il titolo intercontinentale lasciato vacante da semi zane altra particolarità molto molto importante da non sottovalutare che comunque probabilmente ha come dire influito ecco nel giudizio finale nel giudizio generale è quello che era durante il periodo pandemico perché comunque quindi erano a porte chiuse nel performance center quindi capirete comunque abbastanza desolante come contesto però un match che è il mio preferito del periodo pandemico e secondo me è anche uno dei migliori match targati wwe nel periodo covid quindi è anche solo per questo secondo me merita la visione ve lo consiglio fortemente ma immergendoci nel match ovviamente direte tra due colossi è ovvio che me lo recupero quindi ecco fatto le poi magari venite a parlarne con noi o nel gruppo telegram wrestling room o sotto nei commenti ancora meglio incontro che comunque dalle prime battute si presenta molto tecnico con brian che la fa da padrona all'inizio con manovre tecniche che mettono in difficoltà aj soprattutto al braccio sinistro preso di mira fin da subito da brian dal foot bag brian quando prende aj il terreno il canovaccio non cambia di molto meno grappling ma comunque manovre tecniche focalizzate a indebolire una parte di brian in questo caso la gamba ognuno dei due si è focalizzato su un arte su un arto dell'un l'altro il ritmo dopo un po inizia ad alzarsi considerate che comunque il match è stato quasi di 30 minuti 26 minuti essendo molto 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 puntigliosi dicevo il ritmo inizia ad alzarsi le intensità diverse lo si nota dopo un po brian tenta un paio di volte il pin ovviamente senza successo quei consueti pin che comunque fanno riposare un attimo gli atleti piace sottolineare una cosa comunque che io vado pazzo nei match di wrestling in questo match di wrestling si è visto molto bene questo brian attaccato un punto di aj style se aj style attaccato un punto di brian ma vendono perfettamente queste cose io i dettagli così in un match di wrestling li amo non sono cose scontate secondo me perché in tanti match ho visto che magari attaccavano la gamba e dopo si scordavano che erano infortunati alla gamba quindi questa perdonate la parentesi ma è sicuramente una cosa da da sottolineare e andando avanti comunque nel match il ritmo cambia sempre di più perché comunque andando avanti l'intensità aumenta e cambiano anche comunque diversi stili c'è un momento verso la metà che si va anche più verso la flyer con magari tipo brian mi ricordo che provava un back suplex aj comunque ha fatto il suo classico ddt moonsault sempre però vendendo i loro due infortuni soprattutto brian un momento quando cerca di andare sulla terza corda però quando fa un quando tenta un moonsault a terra e zoppica perché appunto aj aveva provato prima o meglio attaccato la gamba di brian durante il match questa è una cosa veramente molto bella nelle battute finali brian cerca di chiudere la contesa con la yes lock senza successo perché comunque aj style con non poca fatica va a trovare le corde col piede destro prova la run in me anche sfruttando uno styles comunque abbastanza bello bello stanco però styles egregiamente la trasforma in una styles clash nella sua mossa finale ormai diventa iconica e successivo che riesce e successivamente nella fenomenal forum concludendo il match 1 2 3 e j styles nuovo campione intercontinentale io credo che questo sia un match da recuperare per i motivi detti precedentemente ma anche perché hanno mixato gli stili di lotta in un modo veramente molto egregio e soprattutto è una cosa che ho notato è che secondo me in questo match pare che appare più che altro in questo match che hanno avuto più libertà secondo me per il semplice fatto che il loro match che hanno avuto precedentemente a questo mi ricordo un tlc fu veramente brutto per per le qualità che hanno i due e qui invece sono tornati con la chimica che tutti si aspettavano di avere quindi secondo me qualcosa sotto c'è sono contento di portare questo match in questa rubrica perché ripeto è uno dei miei preferiti nel periodo pandemico è sottovalutato anche per la situazione in cui erano nonostante ciò voluto seri in questa rubrica perché merita una visione credo che inoltre forse qui la sto dicendo grossa ma ditemelo anche voi nei commenti credo dopo aver visto il match credo che tolta la parentesi dei giorni nostri di gunter questo sia il miglior match per il titolo intercontinentale degli ultimi almeno sette anni andando larghi purtroppo però è sottovalutato per i motivi che vi dicevo prima però veramente io vi ve lo consiglio fortemente i due atleti comunque piacciono a molti quindi magari recuperare qualcosa del loro repertorio non fa mai male qualcosa che magari eravate persi io vi ringrazio per essere arrivati fin qua per aver visto questo video per avermi fatto anche compagnia in qualche modo meglio io per avervi fatto compagnia e vi rimando un altro video del lato viola del ring e un altro video di underrated match grazie mille